Caffè Bleu in trasferta, siamo ospiti del Festival Imaginè, il piccolo festival di narrazione per figure, un festival giunto alla quinta edizione, un progetto che ho il piacere di presentare finalmente dal vivo. Ci ritroviamo qui a Vernante con Sara Urbeis, Now Officina Culturale. Sara, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, finalmente ci si vede per raccontare Imaginè, edizione 2022 che si è svolta il 17-18 di settembre, anche se in realtà il progetto Imaginè non è solo questi due giorni, anzi c'è tutto un lavoro precedente che risale agli scorsi mesi, quindi è luglio. Sì, siamo appunto giunti alla quinta edizione e l'emozione è la stessa della prima edizione, quindi per me è un'emozione anche parlare di questo progetto che è un progetto che ci sta particolarmente a cuore, sta particolarmente a cuore a noi di Know How Officina Culturale perché è il primo nostro progetto proprio interno, nel senso che è un progetto che abbiamo progettato noi secondo una passione che ci unisce, che ci lega, che è quella nei confronti degli albi illustrati, che sono questi libri particolari, spesso tendiamo magari a non definirli con attenzione, ma visto che c'è la possibilità di approfondire, mi piacerebbe provare a spiegare meglio cosa sono gli albi illustrati. Sono degli albi che hanno un linguaggio particolare e complesso, perché? Perché è un linguaggio che risulta dalla compenetrazione di due linguaggi diversi, che è il linguaggio delle immagini e quello delle parole e quindi questo conferisce una complessità elevata a questo tipo di libri ed è uno strumento bellissimo per raggiungere, per provare a raggiungere un obiettivo che è quello di educare allo sguardo ed educare alla bellezza. Questo appunto è l'elemento che cerchiamo di tenere sempre a mente quando facciamo i nostri laboratori, quando progettiamo le nostre attività. Ecco, le vostre attività, parlerei anche di questo perché immaginare, come dicevamo in apertura, non è solo festival, che insomma c'è la mostra, ci sono i laboratori, gli incontri, le presentazioni, senza dimenticare anche i laboratori in movimento, ad esempio nel centro di Vernante che ci ospita. la formazione, come formare i ragazzi, le ragazze in particolare nelle scuole, come formare alla bellezza, quella bellezza che tu hai citato, una bellezza che evidentemente passa anche attraverso gli albi illustrati. Sì, tutto sta un po', abbiamo già appunto a disposizione gli albi, fanno tutto loro, noi dobbiamo solo cercare di fare da mediatori, nel caso in cui questo strumento viene utilizzato per esempio con i bambini, di fare da mediatori tra il libro e il bambino. Per questo noi non amiamo tanto definirci come dei lettori, infatti per leggere un albù illustrato non sono richieste delle doti attoriali, ma semplicemente essere capaci di fare da tramite tra il bambino e il linguaggio degli albi illustrati. C'è questa interazione, quindi bambino, bambina e albù illustrato, non solo come lettore e lettrice, ma anche come artefice se vogliamo, perché molti laboratori di immagine e del progetto Know-how Officina Culturale riguarda anche i laboratori pratici, perché siamo anche circondati da lavori fatti nelle scuole, e anche questo è un altro ambito molto importante, a mio parere, del progetto Immagine di Know-how. Sì, noi sin dalla prima edizione abbiamo cercato di portare i laboratori direttamente a scuola, così appunto da entrare direttamente nelle classi e raccontare proprio anche il funzionamento degli albi illustrati e offrire così anche agli insegnanti un modo per formarsi anche loro e poter utilizzare poi l'albo a scuola con i bambini, per esempio. Roberta Angaramo prima ha raccontato dello sporcarsi le mani con i colori, sporcarsi anche se in realtà i colori non sono mai sporchi, diciamo, però che questa è un'attività importante, direi fondamentale, è entrare appunto nell'albo realizzandolo, perché no, realizzando appunto queste immagini. Come è cambiato il pubblico? Secondo la tua esperienza in questi cinque anni, hai notato un cambiamento rispetto ai ragazzi e alle ragazze, a questo concetto di immaginare, è una meccorosità. Sì, ma è bello osservare come ci sono dei bambini che ci seguono dalla prima edizione e continuano a tornare e questo ci fa un sacco piacere, perché comunque avere un pubblico che si è affezionato al festival è bello, vedere infatti sempre la curiosità di vedere le prime persone che si prenotano ai laboratori e rivedere magari dei nomi di persone che sono già state qui. È bello vedere come ogni anno il pubblico però si allarga, per esempio poco fa ho incontrato una famiglia che è partita dalla Spezia per venire qui e questo ci fa anche piacere. E la cosa appunto delle due giornate di festival è di proprio cercare di fare una festa per cercare di attirare anche chi magari non conosce ancora gli albi illustrati, però presentandogli anche in un modo un po' più divertente, perché purtroppo c'è ancora un po' questa cosa del libro come una cosa noiosa, soprattutto adesso i bambini che hanno anche un livello di attenzione molto basso e difficile, però nel mondo degli albi illustrati ci sono tantissimi libri, ci sono dei libri anche molto che permettono una forte interazione con i bambini, dove i bambini sono protagonisti loro nel raccontare insieme a te le storie, quindi insomma cerchiamo di far conoscere anche questo aspetto del libro in un contesto di festa. Contesto di festa, contesto anche di sfida se vogliamo al digitale, mi piace immaginarlo anche così perché i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine sono sempre più digitali, nascono proprio così, ho visto dei neonati andare di touchscreen in una maniera incredibile, che io rimango veramente allibito da dare certi gesti. Un altro aspetto di cui vorrei parlare insieme a te Sara riguarda il rapporto con il territorio, riguarda il rapporto in particolare con Vernante, abbiamo avuto modo di sentire parlare con il sindaco in apertura di questa puntata di Café Bleu e il rapporto di Imaginè con la valle, la valle Vermenagna e con Vernante in questi cinque anni. Sì, assolutamente, noi sin da subito, pensando ad un paese, perché appunto Imaginè volevamo organizzarlo non in città ma in un paese, di montagna, abbiamo da subito visto a Vernante un legame fortissimo con l'illustrazione, per il fatto, forse l'avrà già detto il sindaco, di Attilio Mussino, il grande illustratore del Pinocchio Colori, che ha vissuto qua gli ultimi anni della sua vita. Oltretutto con il comune di Vernante già si lavorava per un progetto transfrontaliero con Vernante e gli altri comuni della Val Vermenagna che si chiama Vermenagna Roia e perciò c'erano già tanti elementi, per cui appunto albi illustrati e poi facendolo a Vernante, comunque ma anche nel senso in un altro posto, è importante valorizzare cosa c'è in quel posto, perché se no sarebbero dei festival uguali dappertutto. E perciò l'altro forte obiettivo di Maginè è quello di valorizzare il territorio di Vernante della Valle Vermenagna e potenziarlo se si riesce. C'è anche il tema dell'acqua, ovviamente è stato il tema di questa edizione del 2022, ci sono diverse tavole, diversi quadri illustrati che ci mostrano questo filo conduttore dell'acqua che è anche stato il centro del lavoro di Alicia Baladana, l'ospite di quest'anno di Maginè. Il tema dell'acqua, anche in questo caso molto legato al territorio e anche all'attualità direi, e alla sensibilizzazione rispetto a questa risorsa. Sì, appunto il tema dell'acqua. La scelta, immaginò. In realtà, sì, in realtà tutto un po' a origine dalla residenza artistica che si è tenuta l'anno scorso, dove abbiamo chiesto ad un illustratore che è Marco Paschetta di cercare di tirare fuori l'anima del luogo e abbiamo dato un compito, davvero così, l'anima del luogo. Da quella ricerca sono venuti fuori diversi temi e tra questi uno era appunto l'acqua e per cui noi abbiamo deciso, e ci proveremo insomma ogni anno, ad approfondire un tema diverso. Abbiamo deciso di partire dall'acqua perché appunto ci sembrava il tema più attuale. E' sempre più importante parlarne e continuare a parlare. Se dovessimo fare un po' i titoli di coda di questa nostra chiacchierata, Sara, vorrei innanzitutto ricordare, no-how, officina culturale, siete a Cuneo, proprio San D'Amazzo, dove siete? Come siete? Siamo a Cuneo, in lungo gesso, abbiamo una nostra nuova sede, da due anni siamo lì, e appunto siamo un collettivo di professionisti, siamo dei progettisti culturali. No-how e insieme ad altri partner realizza appunto tre altri progetti, immaginè. Sì, appunto, immaginè non sarebbe possibile, grazie agli enti che sin dall'inizio hanno creduto a questo progetto e hanno deciso di sostenerlo, non è una cosa scontata, il comune di Vernante si è subito mostrato disponibile e sostiene immaginè dalla prima edizione, poi ci sono le fondazioni CRC e CRT, e anche un Interreg, che è quello che ho già citato anche prima, che quest'anno è Vermenagna Roia 2, quindi un progetto trasfrontaliero. L'idea è anche quella di provare ad aggiungere un tocco di, adesso non mi viene la parola giusta, trasfrontalietà, qualcosa di genere. Visto che, appunto, è così vicino alla Francia, è legame forte, e quest'anno abbiamo iniziato aggiungendo appunto la presenza di quest'artista francese che è Orore Maille, che è qui con il suo laboratorio artistico ambulante. E quindi, insomma, è stato un po' l'obiettivo futuro di Immaginè, possiamo già anticiparlo. Almeno il vostro obiettivo è quello appunto di guardare anche, insomma, continuare in questa strada che porta verso la Francia, della Vernante, porta verso la frontiera, e perché no, anche abbatterla, perché è anche un po' il bello degli albi, e della fantasia, e dell'immaginazione, che abbiamo presentato in questa puntata speciale di Caffè Bleu con Sara Rubais, nuova ufficina culturale. Sara, in bocca al lupo, vive il lupo per il vostro lavoro. Grazie. Viva!